La ricerca dell'essenza. Qual è l'essenza della vita? Il problema è sempre lo stesso. Come si affrontano le difficoltà della vita? Chiediamoci intanto però qual è la richiesta inconscia che si nasconde dietro una domanda del genere. Però apriamo una parentesi. Queste domande sono aperte, sono domande aperte che richiedono una risposta ampia perché la psiche ha una vocazione spirituale. Questo significa che lo spirito della psiche è uno spirito errante, gli piace vagare di luogo in luogo, come se fosse all'interno di una fiabba poetica. Se osserviamo però il peregrinare dell'anima inquieta alla ricerca di risposte, risposte di questo tipo, possiamo cogliere allora nella scelta stessa dei luoghi della psiche, nella scelta stessa delle situazioni, possiamo cogliere una narrazione fantastica, fantasiosa, fatta per immagini come i sogni ad esempio. L'anima parla per immagini, l'inconscio è poetico, il linguaggio dell'inconscio è l'immagine. Infatti, non a caso, le parole non riescono mai a cogliere fino in fondo il significato segreto delle cose. Perché la saggezza non è qualcosa di comunicabile. La scienza, sì, si può comunicare, ma la saggezza, no? La si può trovare, la si può vivere, ma la saggezza non si può spiegarla, non la si può insegnare. Ecco perché la ricerca dell'essenza della vita, l'essenza, deve essere una ricerca personale, soggettiva. E il racconto che noi facciamo, il racconto che l'anima intessa in questa sua appassionata ricerca, sapete a cosa assomiglia? Assomiglia alla storia incantevole di un pellegrino che risoluto, procede all'infinito finché non gli sarà svelato il significato della vita, il suo mistero. Qualcuno dice, qualche filosofo dice che l'uomo è gettato nell'esistenza, ma allo stesso tempo è chiamato a vivere, è chiamato. E qui subentra la voce dell'anima, la voce dei sogni, in questa chiamata. La voce dell'anima con la sua chiamata è flebile, flebile ma persistente, persistente come una preghiera che non si arrende mai, è irriducibile. La richiesta che l'anima ci pone è accompagnata da una intuizione inconscia che palpita nel fondo oscuro della psiche e porta con sé una visione inesplicabile che spesso è messa in moto da una parola arcana, primitiva, inconscia. Lacan direbbe una parola piena. La voce dell'anima pretende di essere ascoltata. Però dobbiamo sapere che per porci in ascolto abbiamo bisogno di un atteggiamento affettivo adeguato, cioè poetico. Il poeta è colui che coglie, coglie una verità. E un bravo psicologo deve possedere questa qualità. Deve avere un'arte che gli consenta di passare da un sapere intellettivo, razionale, ad un sapere intuitivo, visionario, poetico, nel tentativo di cogliere ciò che tutti i saperi hanno in comune. Questo è un percorso introspettivo, un viaggio nei meandri dell'anima che cerca, l'anima cerca di vivere con passione la propria vita. L'anima, la psiche, non considera definitiva nessuna acquisizione. Perché ciò che va cercando è il tutto, il misterioso tutto, che si veste di mille volti cangianti, uno nessuno e centomila. E alla fine di quel tutto, come dice Siddhartha, rifluirà un sorriso. Dentro quel tutto c'è un sorriso. Vedete, nel suo itinerario spirituale, l'anima viene soccorsa da una guida, da un maestro che, come il genio delle fiabbe, consegna una formula magica, oppure un talismano, con il quale può invocare la rivelazione. E la rivelazione finale? Sapete come suona questa rivelazione finale? Suona così. Non sono più io che vivo. Non sono più io. L'io si fa da parte. C'è qualcosa che vive nell'io. C'è qualcosa che vive in me. L'inconscio, punto. L'ospite inquietante. Quindi non sono io che cerco la verità, ma io sono cercato. Qualcosa cade dentro di me a mia insaputa, senza che io possa intervenire. Ecco, con questa potente intuizione, che ci deriva sicuramente da un approccio religioso all'esistenza, possiamo ritornare e concludere la nostra domanda. Come dobbiamo vivere? Com'è una vita degna di essere vissuta? Cosa è propriamente la vita? La vita è un processo di ristrutturazione creativa che si realizza seguendo alcune modalità. E il nostro compito è appunto quello di comprendere queste modalità per facilitare il processo che diventa un processo di crescita, di maturazione e quindi di cambiamento. Va bene? Mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche oppure via mail. Per richiedermi una consulenza dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473, scrivendo come faccio per avere una consulenza, come funziona la consulenza, specificando il vostro nome, il vostro cognome, i vostri orari preferiti. Buona giornata.